Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella sua fette di camera mia e benvenuti sulla prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di DC Universe of Earth, Titans Vol. 3 e Judas Among Us, scritta da Denabnet per i disegni di Brett Booth, Kenneth Rocafort e Minky Young. I due autori che sono segnati qui presumo che siano i chinatori o i coloristi Norm Rapmund ed Andrew Dallaus, perché non sono riportati nelle solici dei singoli capitoli, quindi non sono i disegnatori. Però va bene così. Everything a Titan fan wants them more, la IGN ci carica con questa frase qui ad effetto. Questa copertina che ritrae tutti i personaggi della squadra, ci sono copertine disegnate da altri disegnatori che a me in questo story arc mi sono piaciute decisamente di più, ma sono praticamente nulle le copertine che vedono tutta la squadra coinvolta. Quindi la scelta per quanto non felicissimo di questa cover, cioè non mi rende felicissimo, è comunque sensata perché sennò era un personaggio in copertina e gli altri magari erano totalmente assenti. Di che cosa parla questo volume? Che già vi dico, vi consiglio, nonostante il finale non mi abbia convinto al 100%, ma andiamo con ordine. Di questi capitoli avevo già parlato parlando degli spillati della Justice League, i capitoli, gli ultimi numeri che riguardavano i titani fondamentalmente. Quindi avevamo visto Lilith Clay recarsi da Psymon per sapere dove si trovava il tracciato mnemonico di Bumblebee, che non avendo più quel tracciato ha perso la memoria, non ha più tutti i suoi ricordi. E i titani vogliono aiutarla a ritrovare la memoria e i suoi ricordi, farle capire che è sposata, che ha un figlio, cosa insomma leggere e leggere da dimenticare tutto sommato. Mentre Lilith Clay va da Psymon, fa un attimo un resoconto di come stanno andando le cose nella squadra dei titani, le fragilità dei singoli membri di alcuni titani, alcuni punti di forza e quant'altro, alcune soap story molto molto interessanti. E nel finale Psymon gli anticipa che lei è un presagio, lei è Omen, lei è il presagio, ecco lei che dovrebbe dire alla squadra dei titani che all'interno delle file dei titani c'è un traditore che li sconfiggerà e li distruggerà tutti quanti. Gli fa vedere una visione su un futuro relativamente prossimo in cui loro sono stati tutti, praticamente tutti sconfitti. Lilith Clay vuole un attimino, si ferma un attimo, non si fida del suo nemico del tutto, ma si rende ben presto conto che effettivamente alcuni membri della squadra dei titani non stanno agendo proprio 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 al chiaro della luce, lavorano un po' nell'ombra, sono un pochettino strani. Diversi membri infatti della squadra hanno dei segreti, hanno dei misteri che ruotano attorno a loro stessi. A partire da Wally West, il ragazzo che ha il cuore infranto letteralmente, che lo vediamo in questi capitoli qui, si approccia un pochettino di più a Donna Troy e che scopre effettivamente di avere un nuovo potere legato al suo cuore malfunzionante, un potere che rischia però nel contempo di ucciderlo. Abbiamo Nightwing, che è il solito leader della squadra, che effettivamente sembra parlare con qualcuno e magari dargli delle informazioni. C'è Aqualad, che a sua volta nasconde il fatto di essere innamorato di Dilip Clay, per quanto sia abbastanza palese, ma nasconde anche un passato tormentato alle spalle che non lo porta a dire tutta la verità agli altri membri della squadra. C'è Donna Troy, che come sappiamo è una ragazza fatta di pietra, l'abbiamo visto nell'Annual, è una ragazza di argilla, se vogliamo, e che di conseguenza non è del tutto umana. Quindi cosa nasconde la sua mente? Bumblebee non ha più la memoria, quindi potrebbe essere facilmente alla merced degli antagonisti di questo story arc. Insomma, anche Arsenal, tutti nascondono qualcosa agli altri. E in questo story arc vedremo pian piano come questi segreti minino un pochettino le relazioni tra i gruppi, ma che il loro svelamento man mano porterà ad una situazione un pochettino migliore, a un legarsi ancora di più ai membri della squadra. Gli ultimi tre capitoli effettivamente ci mostrano però il futuro, visto da Lilith Clay, ci mostrano effettivamente chi è l'antagonista effettivo di questo story arc, mostrandoci anche quali sono le sue reali motivazioni. Ora, se fino a questo momento qui la storia era veramente molto molto tesa, e mi era piaciuto un sacco per il clima che si era creato all'interno dei membri della squadra, di che nessuno sapeva di chi si poteva fidare. Quindi, insomma, un bel bel mistero. In questa parte qui, nel momento in cui viene svelato chi è il traditore, da un lato mi è sceso l'hype, perché il personaggio che... diciamo, il traditore della squadra non funziona. Per me non è un personaggio che ha senso che tradisca la squadra, perché, per quanto mi riguarda, per come viene proposto, per come viene presentato, non è un membro della squadra dei titani. Non lo è assolutamente. Si potrebbe giocare, ci si potrebbe... Sì, ok, il problema è che non è un membro della squadra dei titani. Non dico altro, non dico altro per non fare ulteriori spoiler, per non dire nient'altro. Resta il fatto che le motivazioni che spingono questo personaggio anche sono, a mio parere, un pochettino buonare, un pochettino all'acqua di rose, però il suo character design, il suo modo di porsi, il suo modo di relazionarsi, il suo modo di essere, il come si presenta e come si propone, è veramente bello. A me, cioè, se dal lato avevo l'hype calante, perché, no, dai, ho tirato fuori veramente sta roba qui di Nablet, dopo tanti capitoli che mi avevi gasato tantissimo, dall'altro mi ha continuato a gasare, perché il personaggio che ha tirato fuori dal cappello è mamma mia tanta roba. Quindi ero comunque misto tra non hype e hype alle stelle, quindi una sensazione stranissima che vi invito, nel caso in cui leggiate questo story arc, a dirmi sinceramente la vostra, per dirmi che cosa, se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, per vedere se avremo un pensiero in comune o magari, come al solito, come dico spesso, nel confronto, nel dialogo tra di voi, per quanto sia nei commenti qui sotto, magari riuscire a vedere la storia da un punto di vista differente. È una delle storie che ho letto, in realtà, già di più in assoluto, perché, prima di, vabbè, piccolo aneddoto, prima di iniziare ad acquistare i volumi, indeciso se acquistare i volumi o meno, questa è stata una delle prime serie che ho letto in scan, per provare a vedere l'inglese. E l'ho letta una volta, l'ho letta due volte, perché mi è piaciuta tanto, l'ho riletta un'altra volta, una volta che mi è arrivato il formato cartaceo, quindi non posso dire che questo story arc non mi sia piaciuto, cioè, l'ho letto veramente tre volte nel giro di due mesi e mezzo, e quindi lo story arc mi è piaciuto, se no, non lo stavo a rileggere così tante volte. Resta il fatto che, effettivamente, Dan Abnett ha dimostrato di essere molto abile in certe cose, ma mi è scaduto in alcuni frangenti di questo capitolo stesso, ma sinceramente non vedo l'ora di aver sotto mano il quarto volume per capire dove questa serie andrà a parare e come si concluderà la fase 1 della serie di Titani, perché sappiamo già che in America col quarto volume si chiude in un qualche modo un ciclo, e poi nel volume successivo ne comincerà un altro. E resto molto molto curioso, forse perché l'autore è sempre Dan Abnett, e tra Titani e Aquaman sta facendo veramente un lavoro egregio. Quindi vi consiglio di recuperare questo story arc, assolutamente sì, vi consiglio se non vi interessa lo spillato di Justice League, perché contiene troppe serie che non vi interessano di recuperarle in una qualche maniera, ma Titani, secondo me, resta una delle serie migliori di questa rinascita, resta la migliore, la numero uno. In realtà quando avevo fatto il video, avevo già letto tutto questo story arc dei Titani, quando avevo fatto il video con le, insomma, la classifica delle serie di rinascita che mi erano piaciute di più o di meno, e dopo aver finito di leggere, in realtà, la guerra degli scherzi e degli enigmi, rimango sul mio pensiero che Titani sia la serie migliore della rinascita, con Batman subito alle spalle, e tutte le altre, per come le avevo già elencate, non è cambiato di una virgola il mio pensiero e il mio parere, però ecco, lì diciamo che Titani partiva anche abbandaggiato perché sapevo già queste cose qui, e basta. Questo è quanto avevo da dire per oggi, qui sotto nello spazio dei commenti ditemi la vostra, se state seguendo Titani su Justice League, se non lo state seguendo, seguitelo, seguite Titani, perché secondo me ne vale la pena. Questo è quanto avevo da dire, qui da Francesco, tutti i miei amici, nella soffitta di camera mia, non più soffitta è tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!